I miei follower sono veramente intelligenti perché mi hanno fatto notare sommessamente che potrebbe accadere qualcosa per cui io potrei non riuscire a incontrare lo Speranza a Pisa l'11 aprile e allora stavo guardando la mia agenda per riuscire a trovare lo spazio, e credo che ci riuscirò, per incontrare l'esimio in qualsiasi altra circostanza alla presentazione dei suoi libri. Quindi volevo dire ai follower di stare più che tranquilli che il modo si troverà per avere questo confronto. Vorrei chiocciolare il Ministero della Salute, ma sapete che mi ha bloccato e quindi devo usare questo mezzo. Ma soprattutto si è aperta questa nuova vicenda per cui il futuro primario dell'Inps di Trento, Maria Cristina Gervasi, mi ha segnalato all'ordine per quello che ho riferito nel film di Paolo Cassina non è andato tutto bene, che sta per uscire nelle sale cinematografiche in anteprima in Italia. E quindi sarà veramente emozionante, alla luce anche del film che sta per uscire e della mia partecipazione, vedere se Speranza l'ha già visto o se gli devo dare una copia del docufilm. Quanto sono emozionata! Emozionata!